Ci hanno preso gusto, ve lo dico io. La trincea però mi sa che non serve. Sì, scherza. Servirebbe come... Che successe stavolta? Uno con pistone e passamontagna, ma fermato in fondo alla strada. Sempre quando porto fuori fulmine. Cosa ne ha preso? Tutto si è appigliato. Le chiavi di casa e pure quelle della scuola si è presa. Hanno dato niente, qualche segno particolare? Ma che? Questi sono tutti uguali. Si sentono uomini. Questa vocetta che non ha né maschio e né femmino. Un altro ragazzo, quindi. Altro? No, no, nient'altro. Intendevo si è notato, Altro. Ho notato che quando servite non ci state mai. Eh sì, bisogna che ci fate qualche giretto nelle scuole. Proprio a mettergli un po' di paura a ste infami. Guarda l'albero, eh. Se tappo il buco, questo si piega così, si piega così, fa quello che gli pare. Così invece, viene su come dico io. Lei non ha figli, vero? E ci mancasse. 그런 nuove delle cittine. CiaoIE! Sai! Ciao. Grazie a tutti.